Ancora lei, Roberta Pio? Il Lumezzane femminile conquista l'ennesima vittoria in campionato, espugnando il non facile campo di Riccione. Una trasferta positiva a quella delle ragazze di Mazza, anche se la prestazione non è stata a livello delle ultime offerte, cosa comprensibile del resto in un campionato complicato come la Serie C di quest'anno ed in particolare il Girone B. La squadra viaggia comunque sulle ali di Roberta Picchi, che è andata in gol per la quarta domenica consecutiva, e la sta seguendo in questo cammino all'inseguimento delle battistrada Bologna e Merano. E proprio il Bologna ha faticato non poco domenica per avere ragione del Venezia 1985, risolvendo la gara solo nel finale. Questo per dire che il campionato è ancora lungo e tutto può succedere. Campionato che ora si concede un turno di riposo, anche se le Valgobine scenderanno in campo pure questa domenica al Saleri per assolvere il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Prima avversaria del Gironcino A4, il Real Meda. Anche le ragazze del Lumezzane hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza alle donne, inviandoci questo video. Anche le ragazze del Gironcino A4, il Real Meda. Anche le ragazze del Gironcino A4, il Real Meda. Anche le ragazze del Gironcino A4, il Real Meda. Anche le ragazze del Gironcino A4, il Real Meda.